Come se fosse un elettrodomestico rotto. Cosa te ne fai di un elettrodomestico rotto? Mica lo aggiusti, lo butti via. E quindi, quando una persona si comporta così, devi guardarla e non come persona, ma come un elettrodomestico rotto, pieno di ruggine, da rottamare. Ecco, quindi lo rottami, lo prendi, chiami la nettezza urbana e lo butti via. E questo è quello che devi fare, perché se tu ti porti dietro tutte queste zavorre, tutte queste situazioni così, non ne caverai un ragno dal buco. E quindi, alla fine, ci rimetterai. Quindi, me ne frego, me ne frego, me ne frego. È il mantra che devi raccontarti, che devi dirti nella tua testa. Vedrai che in questa lezione cambierà la tua vita. Per approfondire tutti questi temi puoi venire a Milano, domenica 1 marzo 9.30, 19.00, tu stime seduzione, in amore al lavoro. E poi, Tavino, venerdì 6 marzo, ore 20.45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che merita. Molto importante è questo appuntamento di Torino, di venerdì, ore 20.45, venerdì 6 marzo. E riferimento sempre a 3.33.15.11.703. Ti ricordo, inoltre, nuovamente, vatti a abbonare al canale Massimo Tramasco se vuoi intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. Ci sono tre livelli di abbonamento. A livello base, lezioni mirate. A livello top, lezioni mirate più videoregistrazione e seminario dal vivo. A livello master, lezioni mirate, videoregistrazione e seminario dal vivo. E in più, una consulenza di 20 minuti con me. Per cui, vatti a abbonare al canale Massimo Tramasco. Ormai funziona anche con l'app dell'iPhone. Per cui, anche col telefono puoi farlo. E quindi vai, basta andare sulla home page, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati. E lì ti puoi abbonare. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. E ciao a tutti.